Un camion ha diverto le sbarre di un passaggio a livello tranciando i cavi elettrici che regolano gli scambi dei binari a San Zeno e così il treno dei pendolari Cremona-Brescia. Ha accumulato ben 50 minuti di ritardo, arrivando alle 9.05 anziché alle 8.20. Il guasto è stato poi riparato per le 9.23. Il lunedì ferroviario, iniziato male, ha poi mantenuto la stessa caratteristica. Il ritardo in serie che si accumula di treno in treno sul binario unico della linea Maglia Nera della Lombardia, dove solo negli ultimi mesi, dopo grandi proteste, sono stati tolti i motori diesel degli anni 70. Così se un convoglio tarda, costringe i successivi a rallentare. Infatti un treno si è fermato a Manerbio e non è più proseguito. Il Cremona-Brescia delle 10.22 ha segnato 34 minuti di ritardo per una variazione del personale in servizio. Ha terminato il viaggio a San Zeno. La corsa delle 11.22 da Cremona di minuti di ritardo ne ha fatti registrare 28. Il Brescia-Cremona delle 11.38 invece è partito da San Zeno. Il lunedì nero dei pendolari non è rimasto una prerogativa dei mesi invernali. Un disagio dopo l'altro, in seguito a un incidente, ma il numero dei passaggi a livello, come ricorda Dario Balotta, di Legambiente e Lombardia, è eccessivo. VE24 tra due città, su un percorso di 51 chilometri e sui 1800 chilometri della rete ferroviaria Lombarda, il ginepraio degli enti che si occupano di manutenzione aiuta il ritardo a diventare penosa normalità quotidiana fra comuni, province, aziende elettriche, RFI e Trenord. Per la sicurezza poi i macchinisti sono tenuti a protocolli dettagliati. Occorrerebbe un piano nazionale e anche regionale per l'eliminazione dei passaggi a livello, secondo Regambiente, realizzando pratici sottopassi, evitando colate di cemento, come in via Indipendenza a Crema e opere costose e problematiche come i sottopassi di via Persico, via Brescia e San Felice a Cremona, senza dare sistematicamente l'occasione di collegare cavalcavia con raccordi e serie di rotatori, come a Soresina.